Non una ma due, Camino, Caterina Ezzini. Lei non vorrebbe essere qui, perché questa è la verità. Cominciamo da subito. Allora, grazie. Devo dire che le sorelle d'amico sono patrimonio dell'umanità, patrimonio del cinema e le ospiti ideali del cinema ritrovato, perché hanno alle spalle una carriera, entrambi una carriera formidabile, sono la storia del cinema, nello stesso tempo la conoscono perfettamente, nello stesso tempo la adorano e sono due spettatrici pazzesche. Insomma, sono veramente, se il cinema ritrovato esiste, è perché loro hanno fatto dei film che noi possiamo presentare e perché loro sono delle spettatrici ideali del nostro festival. Insaziabili, soprattutto. Insaziabili e in più sono entrambe una delizia. Quindi credo che siate fortunati, siamo tutti molto fortunati, a poterle ascoltare e a raccontare una delle storie più cinema ritrovato che esistono della storia del cinema, quella la storia di Ludwig. Ieri nella presentazione Caterina ha spiegato che per Visconti questo film sarebbe stato un piccolo film e poi mi dovete solo promettere che a un certo punto spiegherete perché è la società che recupera i diritti di Ludwig si chiama Ohonte Film. Spiegheremo anche questo, sì. Allora, non si può parlare di Ludwig senza parlare prima un attimo di Visconti. Prego. Perché, non solo perché l'ha fatto, ma anche perché per tanti versi non poteva non farlo. Allora, come accennavo ieri, la carriera di Visconti è stata una carriera molto ondivaga, anche quella di tanti altri registi, per carità, ma quando siamo abituati a pensare a un nome grande pensiamo che abbia avuto una carriera costellata di successi e invece nel caso di Visconti sicuramente non è così. ha fatto nell'arco della sua vita solo 14 film più 3 episodi di film a episodi. Guarda caso, i 3 episodi sono 3 ritratti di donne. I 14 film hanno una periodicità regolarissima. I primi film cadono uno ogni tre anni. A media mica vale. Oggi un grande regista a fare un film ci mette molto di più. Da un certo momento in avanti i tempi si stringono e addirittura fa un film ogni due anni perché la sua carriera cinematografica è molto compatta. Siamo tutti d'accordo nel mondo che il suo grande successo, la popolarità mondiale, gli arriva con Rocco e i suoi fratelli e si consolida col Gatto Pardo. Due film prodotti da Goffredo Lombardo. Due film che portano, di cui Lombardo dirà poi tutta la vita, a me nella vita è bastato fare il Gatto Pardo perché è stato il film della sua vita. Dopo questo film Lombardo chiuse la casa di produzione per molti anni, si limitò a distribuire. Questo fallimento fu attribuito al Gatto Pardo mentre in realtà non era dovuto al Gatto Pardo ma a una congeria di fatti. Fatto sta che Visconti si trovò senza produttore e per il film successivo, Vaghe Stelle dell'Orsa, ritornò a lavorare con Cristaldi che aveva prodotto Notti Bianche e fu un film che ha malissimo. a seguire dopo due anni fece una riduzione dello straniero con De Laurentiis, un altro film che andò malissimo e la sua carriera cinematografica sembrava finita. Mentre invece non fu così perché grazie a Pietro Notarianni che era stato per tanti anni l'organizzatore generale sia di Cristaldi e anche a volte di Lombardo si avventurò sulla strada della caduta degli dèi. Film molto complesso prodotto da Pietro Notarianni con una combinazione finanziaria pencolante tanto che il film, la lavorazione del film si interruppe più volte, si riprese, si rinterruppe, si riprese, il film uscì in mezzo a grandi polemiche però fece molto scandalo, fece molto rumore. E allora Visconti si ritrovò di nuovo non dico sulla cresta dell'onda ma quantomeno in campo per giocare. E fu accostato da Nicole Stéphane che era una produttrice francese che aveva acquistato i diritti del Proust, della recherche. E qui comincia la storia della recherche che sarà come un basso continuo sullo sfondo di Ludwig perché Visconti comincia a lavorare alla recherche ma questo film non quaglia mai produttivamente è un film costosissimo e le coperture finanziarie non si trovano. Colgo l'occasione per parlare del costo, del problema del costo perché si ripercuoterà su Ludwig tutto questo pesantemente. Visconti è celebre per fare film molto costosi ergo si considera Visconti un regista molto costoso. Non è così. è come la protagonista di Roger Rabbit io non sono cattiva mi disegnano così. Ora santa miseria se tu vai a chiedere a Visconti di fare il gatto pardo sarà costoso tu che dici? O pensi che lo fai in una stamberga dal vero qua fuori con degli attori presi dalla strada o se gli chiedi di fare Proust o se gli chiedi di fare Ludwig allora ridimensioniamo un po' questa fola di questo regista tanto costoso. E andiamo per esempio a vedere una cosa si conservano non di tutti i film ma di alcuni film i diari di lavorazione ergo quei documenti che tiene il segretario di edizione o la segretaria di edizione che ci dice per esempio quante volte quanti ciac sono stati battuti per una scena e Bisconti mediamente ne batte tre rarissimamente ne batte quattro cinque molto di rado poi ci sta anche l'eccezione una scena che non quaglia che deve essere ripetuta molte volte in Ludwig accade un paio di volte anche drammaticamente però un paio di volte non di più era un regista che preparava molto preparava molto bene che non faceva grandi straordinari rarissimamente andava in straordinario e che non sforava i suoi piani di lavorazione sono rispettati quindi non è un regista costoso non è un regista sprecone questo vale anche per i properties voglio dire non chiedeva si favoleggia sempre voleva i fiori venuti da Sanremo a Palermo no lui diceva prima quello che voleva dopodiché se tu non glielo portavi si impuntava anzi si infuriava però tu sapevi tutto prima quindi stava tutto preciso scritto quanti cavalli vuole quante carrozze vuole e così con il Proust quando lui disse voglio questo 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 e gli dissero non ce lo abbiamo si può fare con meno lui disse no lo facciamo quando avete trovato per darmi tutto questo e nel frattempo io faccio qualcos'altro quindi nel frattempo ci infilò morte a Venezia che è un film piccolo è un film piccolo non so se dar fede a quello che mi raccontò Dirk Bogard che aveva non aveva il doppio dei costumi che aveva al cinema soprattutto per scene importanti o il primo attore ha due abiti identici perché se succede un incidente nel corso di una ripresa può indossare un abito identico è chiaro che i costumi del ballo del gatto pardo non è che ne fanno due di tutti ovviamente però per i personaggi principali e per delle scene più importanti si prevede il doppio Dirk Bogard mi disse io a morte a Venezia non c'è mai avuto i doppi uno era e uno stava e quando mi accasciavo per terra in mezzo al campiello perché mi sentivo male poi me lo dovevano lavare lo asciugavano col phon e facevamo il secondo take meno male che se ne facevano due quindi il film era piccolo poi ritornò a galla il progetto di Proust e di nuovo fu rimandato perché di nuovo i distributori americani dissero che a loro con tutto il rispetto ma di Proust non gliene poteva fregare di meno e che anche se cercavano di infilarci dentro Dustin Hoffman Marlon Brando che li voglio vedere poi se se li sarebbe presi Lucchino ma è anche morto però loro ci provarono per cercare di sedurre gli americani ma gli americani neanche per idea già avevano fatto fatica a inghiottire Lancaster col gatto pardo e non ci cascavano più e quindi Lucchino disse beh vabbè diamogli un altro po' di tempo e vado a fare questo piccolo film su Ludwig di Baviera era l'estate del 71 per la prima volta io ero ospite nella casa a Ischia nella villa di Ischia ero molto intimidita e mi ricordo che quando lui disse questa cosa del piccolo film su Ludwig di Baviera io osai dire Lucchino ma non è uno simuro perché a me mi sembra che come fa lei a fare un piccolo film su Ludwig di Baviera che faceva quelle robe là a me pare strano comunque e lì c'era Helmut Berger in vacanza che gungolava perché in realtà dietro Ludwig dietro il film di Ludwig di Baviera che non so bene a chi venne in mente di fare per la prima volta c'era anche molto forte una pressione più o meno esplicita da parte di Helmut Berger perché Helmut Berger sapeva benissimo che nel piano del Proust avrebbe dovuto interpretare Morel ma sapeva altrettanto bene che Marcel sarebbe stato Alain Delon e lui era molto spaventato dal confronto con Delon la cosa lo metteva in vera difficoltà e voleva affrontare questo ruolo avendo alle spalle qualcosa di più forte del ruolo iconico che aveva avuto nella caduta degli dei ma piccolo un ruolo di cui tutti noi ricordiamo fortissime le immagini perché ricordiamo il trucco ricordiamo l'abito ricordiamo il gesto ma non ricordiamo l'attore lui voleva una cosa da attore e quindi ci teneva a farlo prima del Proust e quindi Luchino con disinvoltura scavalcò il contratto che aveva con Nicole Stefan si beccò una querela da parte di Nicole Stefan che lo denunciò perché disse lui ha un contratto con me non può fare un'altra cosa prima lui controbatté con una controquerela dicendo io faccio una cosa prima perché voi non avete coperto il film e quindi io mi avvantaggio la cosa finì con gli avvocati e Luchino Cinico disse ma poi si calmano le francesi poi si calmano io intanto faccio questo film intanto i soldi li trovano e il Proust si farà dopo a chi aveva affidato il Proust o meglio chi era il pazzo che gliel'aveva proposto si chiamava Ugo Santa Lucia era un esercente di Bari un pugliese aveva dei cinema dei cinema a Bari e aveva fatto un sacco di soldi facendo l'esercente e aveva l'ambizione di fare il produttore e aveva prodotto credo che sia prodotto anche qualcosa con Franchi Ingrassia aveva prodotto dei baby movies che erano andati bene e poi piano piano aveva aveva avuto più ambizioni e aveva prodotto per Comencini infanzia adolescenza e prima esperienza di Giacomo Casanova Veneziano un film delizioso che se non avete visto un giorno o l'altro lui restaurerà e ve lo farà vedere qui perché è bellissimo sarebbe anche ora soprattutto la prima parte è un bellissimo film e quindi lui aveva questo sogno di produrre un grande film con Bisconti quindi sapeva benissimo da quanti piani cadeva e si avventurò ora il film quanto è costato il film io non lo so quello che vi raccontano su Wikipedia però sicuramente è falso perché vi dicono tanto per cominciare che le riprese sono durate sei mesi non è vero il film hanno cominciato a girarlo a gennaio inoltrato e quando Bisconti il 27 di luglio si ammala nel senso a una trombosi a Roma le riprese sono finte da un pezzo e lui sta già seduto in un ristorante romano a discutere con un produttore italo-inglese di un film che dovrebbe fare dopo il Proust che è Zelda un film su Zelda Fitzgerald sulla moglie di Francis Scott Fitzgerald e quindi vuol dire ce l'ha già le spalle Ludwig non lo sta montando ma è acqua passata quindi non sono sei mesi di riprese sicuramente quindi come non si sentì male al castello Orzini alla fine di luglio già sì ma insomma voglio dire sono balle sono balle lui ci ha messo a girarlo il tempo che ci voleva e lo ha girato quasi interamente nei luoghi cioè tanti interni sono stati girati a Cinecittà io ricordo di essere andata alle alle scene alle riprese della l'incolonazione che sono state fatte a Roma in interni il film le riprese sono cominciate con le scene del circo con Romy Schneider e sono proseguite nei castelli di Ludwig e la parte finale è stata girata cioè gli interni sono stati girati in coda le riprese a Roma le riprese sono state abbastanza complicate costellate di liti ma di liti personali lui aveva una prima liti dura con Romy Schneider lui adorava Romy Schneider la adorava e l'aveva prescelta per questo ruolo come l'unica attrice che avrebbe potuto farlo sicuramente si divertiva molto all'idea che lei fosse nell'immaginario collettivo Sissi piaceva molto anche perché avrebbe proposto una Sissi completamente diversa che di fatti non era Sissi era Elisabetta e quindi questo gli piaceva moltissimo si considerava un maestro per lei l'aveva fatta debuttare in teatro le aveva fatto fare Boccaccio 70 aveva vagheggiato di fare con lei la Tarnowska la contessa Tarnowska quindi se la coccolava molto però il film cominciò malissimo con queste scene del circo perché lei si lamentava lei si lamentava di questo costume lei si lamentava che andare a cavallo con questo costume era faticosissimo e che le riprese che insomma che lei era stanca che era stanca che era stanca Lucchino non tollerava queste cose diventava pazzo aveva bisogno di avere vicino a sé una troupe dedicata quanto era dedicato lui cioè qualcuno che non sentisse l'ora la fatica la fame il freddo il sonno i busti i non busti le scarpe strette le perrucche sei un professionista stai lì e lavori settilamente non sei un professionista quindi le cose andarono male dall'inizio poi lei si placò ma all'inizio andò male e andando avanti litigo anche con Berger litigo con Berger furiosamente per una cosa analoga per una scena in cui un giorno in cui Berger si dimostrò non professionista perché giocando con Mark Porell cominciarono a ridere sul set e finì male perché ci fu il secondo ciak terzo ciak quarto ciak quinto ciak sesto ciak e poi Luchino disse cacciatelo lo sostituiamo e l'organizzatore generale Lucio Trentini disse come lo sostituiamo stiamo a fare il monumento qua questo qui lo sostituiamo e signor Conte abbiamo già girato parecchio non importa o viene e si scusa o io lo cambio piglio un altro quindi lì si fermò la lavorazione un paio di giorni e poi Lucio Trentini che era un uomo meraviglioso alto due metri con due spalle così fece quello che doveva fare dall'inizio prese Berger lo sbatté contro un muro e gli disse se tu non vai a chiedergli scusa io ti spacco tutti i denti fai un po' tempo così hai finito proprio la carriera la cosa finisce lì e la cosa si rimise in carreggiata e da quel momento in avanti andò tutto liscio tranne che ci fu il freddo il gelo il cambiamento di temperatura Lucchino se li portava male gli anni era un uomo che aveva in vita sua molto mangiato molto fumato soprattutto e quindi oggi era proprio un uomo oggi sarebbe considerato molto de modè sicuramente era fatto di colesterolo e quindi già in passato aveva avuto delle piccole cose delle cose come dire delle abisaglie di ictus e quando torno a Roma finite queste riprese ebbe questo ictus devastante era il 27 luglio del 72 allora immaginate un uomo che si ritrova dall'oggi a Dolmani come diceva lui sono fortunato perché non sono morto ho capito mi dicono tutti fai conto che sei andato sotto un tram ho capito perché è una bella cosa sotto un tram lui non era spiritoso però diventava spiritoso per forza lo facevano diventare era furioso era furibondo era rimasto mezzo paralizzato per fortuna aveva la parola non gli prese la parola cosa che anni dopo prese Antonioni che non parlò più invece Luchino parlava però aveva perso l'uso di un braccio di una gamba e quindi si muoveva con molta difficoltà ora un uomo in queste condizioni che si fa dopo quest'ictus un mese di clinica in Svizzera poi lo scodellano a casa di sua sorella a Cernobbio dove il montatore Ruggero Mastroianni sistema una moviola vecchio stile non quelle cose che si fa oggi che chiunque monta a casa con un monitorino così ma una signora moviola con tutti i tagli doppi eccetera eccetera con le due assistenti e fa il montaggio di quest'anima di film il doppiaggio e l'edizione e il film esce a gennaio del 73 è una cosa pazzesca è una cosa prodigiosa è una dimostrazione di una forza di volontà e di un rigore personale assoluto lui aveva girato troppo e lo sapeva nel senso che lui confidava moltissimo sul anche sul suo fascino e sulla sua forza personale non solo contrattuale ma anche personale per cui era convinto che avrebbe potuto convincere i distributori a distribuire un'opera così fuori misura era in una condizione di menomazione fisica tale che invece non ce la faceva non aveva quella 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 forza anche quella mobilità che che ti che ti aiuta anche dal punto di vista sociale e quindi era molto più debole nei confronti dei suoi interlocutori quando il film fu montato come lo voleva montare lui i distributori dissero che non avevano nessuna intenzione di mandare in sala un film così lungo che li privava di uno spettacolo ma forse anche due al giorno non ci pensavano neanche e quindi lo volevano ridurre e fu così che fu fatta una prima versione ridotta sulle tre ore c'era anche un fatto di censura sì c'era anche un fatto di censura è ovvio perché se andiamo sui contenuti è il primo è la prima volta è il primo film dove Visconti parla di omosessualità in modo esplicito non era mai successo prima in tutti i film ci sta una una pennellata una un'allusione ma un non detto qui no qui ci si ci si va giù pesante e perché io dicevo all'inizio era un film che non poteva non fare perché secondo me è vero che si dice tanto che il gatto pardo è un autoritratto certo che il gruppo di famiglia è un autoritratto e per molti aspetti sì ma santa miseria se non è un autoritratto Ludwig che cos'è il bello è che in Ludwig lui è Ludwig ma è anche Wagner in Ludwig lui si c'è dentro tutti i personaggi è un film estremamente ricco ed estremamente complesso proprio perché dentro tutti i personaggi riverbera qualche cosa di lui allora siccome poi dobbiamo parlare del secondo tempo e io ho mangiato il mio primo tempo volevo dire solo due cose in più sul cast di questo film allora sappiamo che il film è fatto per Berger è fatto per Berger che guarda caso somiglia anche a Ludwig di Baviera il bello è che non ci somiglia ma finisce col somigliargli Visconti non prendeva gli attori perché somigliavano in modo chiaro a qualcuno però ce li portava a somigliargli sicuramente il Trevor Howard è preso anche perché ricorda Wagner e comunque può diventare Wagner ma chi altro c'è in questo film noi troviamo in questo film i i Viscontiani lui in tutti i film lui era un uomo che diversamente da quello che accade a tanti registi che hanno tanto il desiderio di far vedere che loro inventano gli attori e poi li buttano via lui li inventava se li teneva se li teneva se li conservava se li cresceva lui era un uomo che aveva diciamo così un grande progetto da condividere con dei collaboratori che erano i suoi collaboratori di sempre che erano i suoi direttori della fotografia i suoi scenografi i suoi costumisti i suoi sceneggiatori i suoi montatori ma i suoi attori i suoi attori che lui infilava sempre nei suoi film e che si portavano dietro il sapore dei film passati pensate che cosa succede di Nora Ricci attraverso tutti i film di Visconti che cosa succede di Rina Morelli cosa succede di Paolo Stoppa cosa succede di Massimo Girotti ma anche vediamo rispuntare qui per esempio Adriana Asti che avevamo lasciato in Rocco i suoi fratelli e sbuca qui ma più di tutti ce n'è uno che non si nota mai e che io ho notato per caso perché ho lavorato sulla corrispondenza di Visconti e a un certo punto tra le lettere ricevute di Visconti spunta una lettera di un signore che si chiama Heinz Mog che gli dice caro Visconti lei forse si ricorda di me io ho recitato con lei in senso lei mi sembrò che fosse soddisfatto di quello che io ho fatto per lei era l'attore che interpretava la parte del marito di Alida Valli parte molto piccola dice io lavoro molto poco se lei mi può proporre qualcosa io sarei molto grato e Visconti lo chiama e gli fa fare lo psichiatra che accompagna Ludwig che morirà con Ludwig quindi tirando fuori un'antica fedeltà rispetto a questo attore che era ovviamente lui non aveva frequentato più perché era un tedesco che era stato preso per senso perché ci stava bene perché era tedesco e poi lui se n'era dimenticato altro particolare curioso sempre nelle lettere di Visconti c'è una bella lettera su una carta intestata di un attore americano che gli dice so che lei sta preparando un film su Ludwig di Baviera io sono qui qualsiasi momento mi vuole era Jack Nicholson detto questo arriviamo al fin finito il fin finito esce nelle sale esce nelle sale mutilato tagliato perché dura un'ora di meno quindi con dei pesanti interventi quindi la durata è tre ore sì quando esce nelle sale sono tre ore la prima volta in Germania particolarmente lo massacrarono perché poi cambiarono pure in Germania cambiarono molte cose un vantaggio beh sì perché levarono tutta la parte omosessuale all'inizio non resta molto beh no resta 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 assai però insomma tutta la roba esplicita della parte finale la levarono levarono tanta roba in Germania comunque in ogni paese intervenirono brutalmente facendo delle operazioni veramente mutilanti il risultato fu che il film non si capiva niente sì era molto squilibrato non si capiva non si capiva bene poi sembrava anche lunghissimo molto più lungo di quando invece era lungo che sembrava più breve era una strana cosa comunque sia il film non andò bene e il film fu distribuito in modo da non rendere al povero Ugo Santa Lucia a quello che lui si aspettava di avere da parte delle distribuzioni quindi lui non è che lui resse tutti i costi del film pensando a dei rientri e essendo un piccolo produttore non poteva contare su dei rientri di altre cose perché non ce le aveva era un produttore che faceva un film alla volta non era una grande casa di produzione e quindi fallì e cosa succede quando un film fallisce? che le proprietà di un produttore vengono sequestrate in questo caso furono sequestrate le copie del film fu sequestrato il negativo e il film morì tre anni dopo nel 76 morì anche Visconti e fu messa una bella pietra tombale su questa cosa e da qui comincia il secondo capitolo una mattina del 1978 una sera una sera succede che mia madre si trova ad avere per caso una copia del messaggero messaggero un giornale romano che mamma non comprava che non entrava a casa mia casa nostra e noi abbiamo una casa a due piani c'è un sopra e un sotto mamma sta sotto noi ragazzi ex ragazzi stiamo sopra e a un certo punto mamma chiama col telefono interno corri 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 io vado giù e lei mi fa vedere c'è un annuncio piccolo piccolo sul messaggero di un'asta fallimentare a cui vanno base d'asta 13 milioni i diritti di produzione del film Ludwig di Lucchino Visconti mamma come una matta dice andiamo andiamo all'asta quando è quest'asta l'asta è dopo 15 giorni il primo annuncio di quest'asta mamma si attacca al telefono chiama la sorella di Lucchino chiama Medioli che era il cosceneggiatore chiama Carbuglia chiama gli amici i collaboratori e dice basta andiamo compriamolo lì c'ero io io facevo già facevo il produttorino produttore e soprattutto avevo lavorato parecchio con la Rai quindi avevo un'esperienza di trattativa per cui dico mamma ma questa cosa dice i diritti di produzione non va diritti di produzione e materiali chissà intanto quali sono i materiali chissà i diritti di distribuzione che c'è là eccetera insomma comincio dire che benissimo si compra si fa benissimo però poi se lo volete rifà non lo so perché non sappiamo che c'è qua insomma si comincia ad investigare intanto eccitazione mostruosa si mettono insieme dodici fedelissimi che sono Enrico Medioli il cosceneggiatore è mia mamma Donna Roberta Visconti Franco Mannino il compositore Daniele Nannuzzi che era l'operatore Mario Garbuglia che era lo scenogra sì sì scusate era Armando il babbo di Daniele e poi c'era Garbuglia Mario Chiari che firmava altro scenografo Piero lo firmava Mario lo firmava Mario però in realtà lo firmava Chiari ma l'aveva fatto Garbuglia perché lavoravano spesso insieme eccetera poi si Tosi naturalmente Piero Tosi e Tirelli il capo della Sartoria no Mario Maldesi il capo del direttore di doppiaggio e il mitico Lucio Trentini organizzatore generale il quale era un organizzatore generale magnifico però non aveva quell'altra la capacità poi di andare a fare le trattative non spettavano a lui non aveva mai avuto contatti con i funzionari RAI con le cose eccetera l'unico che aveva avuto queste cose sebbene io fossi molto giovane ero io e allora io fu infilata pure io dentro e quello che ho fatto io è di cercare di trovare questi diritti di distribuzione e si scopre che c'è un come lo chiameresti uno strano personaggio che si chiamava Vittorio Balini che è il primo che in Italia avendo lui sposato una cantante americana essendo emigrato per breve periodo negli Stati Uniti è il primo che ha avuto la grande idea di sfruttare prodotto americano per le televisioni nascenti cioè per le televisioni liberi principalmente lui lavorava con Mediaset ed era lui che aveva acquistato da un precedente fallimento i diritti di distribuzione allora riusciamo a prendere un appuntamento intanto il cognato di Mario Carbuglia che era un avvocato studia come fare la società perché dovevamo andare e volevamo andare come società a combattere all'asta cosa fare come farla per azioni responsabilità limitata basta finalmente Stobalini ci dà un appuntamento alle nove e mezza di sera voi non conoscete Roma insomma Saksalubra perché lui c'era gli uffici vicino dove adesso c'è la RAI andiamo a sbattere in questo posto una delegazione di Mentecatti perché c'era mia madre Franco Mannino il quale essendo sicuro vuole anche fare quello che che lui almeno si presentava molto bene ma anche lì zero e dico scusate in macchina ma che gli dobbiamo dire a Balini che noi rifacciamo il film di Lucchino che lo tanto lo possiamo fare solo noi che però lui entra con noi in società con noi mettiamo i diritti di produzione lui mette i diritti di distribuzione stiamo al 50% e noi intanto rifacciamo il film di Corsca Alt intanto che soldi lo rifacciamo sto film secondo perché questo dovrebbe questo ce l'ha già i diritti di distribuzione lui quello che c'ha quella schifezza che c'ha però ce l'ha quindi lui la sua schifezza ha le televisioni la può vendere può farlo quindi insomma arriviamo perché dovrebbe sognare di rimettere insieme un film di quattro ore che gli distributori non vogliono c'è una follea è demente comunque arriviamo su a fare questo discorso che era improbabile Balini era un bell'uomo molto molto siculo di aspetto di quelli con la fronte di un centimetro e mezzo ma però molto 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 furbo molto 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 intelligente molto ricco molto di successo e ci guardava come si guardano le formiche le mosche ci stava a sentire però perché era intrigata a questo punto chiunque parlava ne diceva una più più grossa perché sa mia madre parlava sempre per non detto intanto parlava che non si capiva niente quando parlava ma poi parlava mai diretta capito ma parlava sempre d'altro parlava d'altro ma lei parlava d'altro quindi bisognava capire quell'altro musicista diceva l'unica cosa è che era il compagno di donna uberta per cui si sentiva della famiglia no perché noi di famiglia la famiglia gli sconti questo ci guardava e diceva poi succede un miracolo sa per una porta entra una bella signora giovane che mi dice e che ci fai te qui mia compagna di banco al liceo lei entrava per dire andiamo a casa che sono le dieci i bambini vogliono mangiare e vabbè noi continuiamo questa cosa demente e a un certo punto io formula la domanda finale che è senta lei dovrebbe venire con noi all'asta perché noi non abbiamo partecipato a un'asta e dire che cosa dobbiamo chiedere che cosa dobbiamo esigere che cosa dice no dice Balini non si può fare perché quella è una turbativa d'asta ah dico vabbè lei però può venireci contro una volta che sono stabiliti tutti i materiali e le cose eccetera andiamo avanti di noi poi dovrebbe insomma entrare con noi al 50% adesso vediamo dove arriva l'asta perché noi non è che se l'asta si alza di troppo ma soprattutto dovrebbe finanziare il rifacimento di questa cosa beh dico sì perché una volta bisogna rimontarlo rifarlo soprattutto lei dovrebbe dare la sua parola che distrugge quella che c'ha lei la versione corta sì quella che Lucchino chiamava il carosello questo oramai era proprio desolato di quello che stava vedendo e lì io dico io però le assicuro che vendiamo in televisione alla Rai il film in episodi e che prendiamo un minimo di 200 milioni e lui che litigava una volta al minuto con la Rai aveva delle questioni lo trattavano male era guardato dall'alto in basso questa cosa gli piace molto come me lo può garantire glielo posso garantire dico certo non glielo posso scrivere però sarà così bene Balini accettò venne pilotò l'asta pagò lui i soldi nostri perché l'asta andò a 80 milioni pagò anticipando le lavorazioni che furono mostruose di difficoltà perché reperire a pezzetti tutto quello che era sparpagliato nel mondo anche perché bisogna un attimo pensare che siamo nel 1978 ergo il cinema digitale non c'è era in mente dei quando si montava un film poi si andava a fare il taglio del negativo e tutto il resto si buttava nel cestone si diceva quindi poi quel film riscorciato 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 andare a reperire i materiali per riportarlo a quella forma che era stata stabilita dall'inizio era praticamente impossibile oggi uno si conserva la copia sul computer fa così col dito io mi ricordo la buonanima di Lino Miciche quando mi fece vedere per la prima volta un dischetto e mi disse la chistella dell'orza sta qua dentro non sono più nove rulli con uno col muletto che li porta è un altro mondo quindi ricostruire quella cosa era veramente fantascienza con le con le persone che oltretutto nel frattempo avevano cambiato la voce erano diversi erano morti non solo avevamo dei morti era morta Romì era morto Grimm no Romì more in 82 hai ragione era morto Grimm era morto insomma c'era gente che non c'era più però questo è il dopo la cosa bella che tu non puoi saltare perché è la cosa che a me mi viene da piangere tutte le volte che ci penso non la posso dire perché ci piango quando noi siamo andati all'asta in questo squallidissimo luogo dove si tengono le altre giudiziarie ci trovammo con tutta la troupe di Lucchino c'erano gli elettricisti e i macchinisti che stavano lì a fare il tifo per noi e fu una cosa che a me ancora mi vengono le lacrime ci abbiamo messo due anni dopo per rimetterlo e i più cattivi i più pessimi interlocutori che abbiamo avuto è la Metro Goldwyn Mayer ci tengo a dirlo dei ladri dei veri ladri e pessimi in qualsiasi tipo di rapporto furono una scorrettezza immonda invece tutto il resto fu meraviglioso mi dispiace che non c'è Umberto Umberto fece un grandioso Umberto Orzini perché lui era stato uno di quelli che non c'era praticamente quasi più quindi era entusiasta riacquistava la vita ma cosa fu Lucio Trentini questo nostro organizzatore generale andare a Pia de Petto a cercare negli stabilimenti nelle casse addirittura nelle sale siamo andati è stato bellissimo bellissimo adesso però ci devi spiegare perché la società appunto diciamo degli amici di Visconti questa società che avete creato lo decisero gli amici di Visconti si chiamava Ponte perché la mia mamma era toscana e si rivolgeva a Lucchino dicendogli oh Ponte e allora per prendere in giro la mamma che aveva scatenato questo putiferio la società si chiamò così non Conte ma O Conte O Conte O Conte ci dovrebbe essere un apostrofo invece c'è un H O Conte e si 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 chiamò la O Conte e fa questo nella vita e ancora campa questa società eh sì adesso chiuderà perché poverina perché costa tantissimi soldi mantenere le società e questa questo figlio ha e di questo si è occupata e si è occupata bene anche va detta un'altra cosa che è vero che io riuscì a convincere la RAI a a comprare questo film in episodi e è per questo che poi voi lo vedete nominato in episodi perché noi appunto abbiamo detto beh e lo riuscimo a questo perché la RAI era diversa da quella di oggi sì c'erano degli interlocutori parecchio diversi lì il mio interlocutore fu Paolo Valmarana che sempre va ricordato perché è uno che ha sempre inventato tante cose in RAI ed era un vero amico del cinema sarebbe stato qui plaudente veramente è una persona leggentissima io gli raccontai per filo e per segno di guarda salva che puoi non mantenere il contratto però a un certo punto fammi una lettera così quando il film uscì nelle sale a Roma meglio nella sala a Roma uscì al cinema a fiammetta non c'è più questo manipolo di sciagurati venne da me che mi occupavo già dell'archivio di sconti e mi dissero abbiamo finito i soldi e non abbiamo i soldi per fare i manifesti nell'archivio di Lucchino ci stanno fotografie di Ludwig e io dissi sì certo ci stanno tirale fuori e allora andammo a attaccarle nel bacheco della sala cinematografica le fotografie di scena con le puntine poi andammo a numerare i posti con Dino Trappetti a mettere le pecette sui posti perché vendevamo i biglietti numerati ha fatto il tutto esaurito per tre mesi a Roma poi l'hanno levato perché dovevano dare Black Edwards Manici di Scopa come si chiama con il team di Black Edwards Fomi e Dottone Fomi e Dottone e Manici di Scopa pazienza la distribuzione la distribuzione italiana fu affidata ai Traxler lo distribuì in Italia all'academy dei Traxler di Manfredi e Vania sì di Manfredi e Vania e fu un vero successo Silvia e Caterina D'Amico grazie grazie grazie